ciao questo nuovo video che di solito che faccio sui film e riesco ad andarmi a guardare che anche se magari come come film magari su certi punti di vista è un po' magari vecchio però li voglio dedicare un video e portarlo magari sul mio canale e visto che magari è un film che a me mi è piaciuto che è uscito a giugno del 2003 come film che come film come paese di produzione dei paesi bassi e della gran bretagna che che gli volevo dedicare questo video a questo film che si chiama 28 giorni dopo che il solito film come regista questo danny boyle che come regista questo qua danny boyle l'avevo già l'avevo già conosciuto con altri suoi film però infatti magari in questo film magari un paio di attori ho visto che sono gli stessi magari che ci sono magari in altri suoi film che conosco magari sempre i suoi che ha fatto lui però magari il solito film magari ora che più che altro magari parla più che altro magari anche se magari parla dei soliti il solito film sui zombie ma un attimino magari diverso perché è proprio magari come trama magari un attimino magari diversa dai soliti film film sempre coi zombie che parla che sono imbarattato marini i film dove è girato maria il film in inghilterra che parte maria il film che che magari per far capire da dove maria è partito maria e questo virus con tutti quelli con tutti quei zombie all'inizio proprio del film si vede che magari questo virus è partito da questi scimpanse in questo laboratorio con degli scimpanse che dopo di corpo si il tempo che magari hanno fatto vedere come da dove ha partito magari tutto comincia proprio la vera magari trama delle del film con questo magari con questo autore che si chiama gene che si che che si risveglia proprio a londra in una londra magari deserta che proprio si risveglia proprio 28 giorni dopo dal che sembra che che lui sicuramente al momento che parti è a partita magari la questa cosa di tutto il bio su lui in ospedale sicuramente in in coma che lui proprio si risveglia proprio 28 28 giorni dopo che lui si si risveglia magari dal coma e si e che si sveglia in ospedale incomincia a vagare in questa londra deserta e e tenta di capire quello che è successo e capisci e magari una volta uscito ma è da questo ospedale capisci tutto e si riesce a come si dice come si dice questo sempre sto oggi una volta fuori dall'ospedale magari capisci capisci tutto e incomincia magari a rifugiarci si come si dice si rintana ma come in certi magari come si fa di solito magari questi film in questi magari casi in qualche centro commerciale nello stesso momento trova gente come lui che fino a quel momento è riuscita a non farsi magari infettare da questi da questi zombie e alla fine è la solita magari film sui zombie ma un attimino da parte magari mia un attimino ma è diversa da solito come trama con questo persona gym come magari protagonista proprio del del film che l'ho voluto tipo andarmelo a vedere perché come regista e questo denny boyle che che lo conoscevo già come come regista anche se magari come film due quasi due ore 1 e 50 ho visto che sicuramente magari merita come merita come film che perché fatto magari anche anche bene anche bene e niente quello che potremmo dire su questo film e magari ho già detto che a parte che magari come film a chi piace magari questo genere di film sicuramente magari uno di quello di andarselo magari sicuramente magari a recuperarselo come film come film e niente quello che potremmo dire su questo film e magari l'ho già detta al massimo ci vediamo sicuramente magari più avanti con i miei soliti magari video che porto magari sul 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 mio canale e niente per adesso vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao 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 è